grazie Cristiano per gli ottimi spunti che che ci hai dato ora mi raggancio un attimo a quello che che dicevate che diceva Cristiano prima effettivamente se se Paola è stata quella diciamo buona e gentile Cristiano sicuramente è stato quello quello cattivo e a me non resta altro che essere quello brutto che oggi vi parlerà di sicurezza informatica e e clausole contrattuali. Io sono Antonio Giacomino lavoro in dottor share ormai da sei anni ho iniziato a occuparmi di di security nel duemila e dieci duemila e undici e ad oggi sono corporate IT security manager appunto in dottor share e eh DPO anche eh nella stessa azienda. Brevemente un'introduzione sull'azienda un'azienda familiare nata in Alto Adige ma soprattutto negli ultimi dieci dodici anni si è eh espansa moltissimo e molto rapidamente nel mondo ad oggi abbiamo operiamo in tredici o paesi differenti con sedici sedi distribuite un po' in tutto il mondo. Velocemente qualche nostro numero siamo circa mille quattrocento questa slide è un pochino vecchia ma siamo circa mille quattrocento collaboratori adesso siamo ad un fatturato intorno ai quattrocento milioni e come detto prima la nostra sede principale è a Postal. L'azienda si occupa di di fare prodotti ovviamente senza glutine quindi l'obiettivo principale la mission dell'azienda è quello di migliorare la vita delle persone con specifiche esigenze alimentari e per fare questo eh si basa su tre eh valori fondamentali che sono quelli della responsabilità del progresso e della e della prossimità. Ecco detto questo cerchiamo un attimo entro subito nel merito nel nello specifico di quello di cui volevo parlarvi oggi ovvero il binomio tra sicurezza informatica e clausole contrattuali che sono due cose estremamente collegate e molto importanti eh ad oggi. Come accennato prima da da Cristiano io oggi vi farò un piccolo acceno intanto su quelle che sono i i standard di settore. standard di settore vuol dire sono norme volontarie quindi nessuno obbliga a a certificarsi o a fare cose particolari non siete obbligati a seguire uno standard di settore. Il sicuramente un'azienda che è certificata ha quel qualcosa in più ma come diceva sempre Cristiano ci sono vari modi per riuscire a raggiungere la certificazione. Importante farla con i dovuti crismi. La prima certificazione di cui vi vorrei parlare oggi è sicuramente penso la più famosa in tra le norme ISO relative alle sicurezza delle informazioni è della ISO 27001 ovvero quella la norma che parla di proprio di sicurezza la gestione della sicurezza delle informazioni. Molto importante per questa norma riguarda il perimetro di applicazione perché è una norma molto molto vasta quindi è fondamentale definire quello che è il perimetro di applicazione sulla quale poi vanno sviluppati tutti i controlli. Un'altra norma di cui vi vorrei parlare molto importante è e forse più recente e leggermente meno conosciuta è la ISO 22301 che riguarda la gestione della continuità operativa quindi qui si parla in questo caso proprio di piani di business continuity o piani di disaster recovery. Il primo aiuta alla continuità nella continuità operativa di tutti i giorni in caso di piccoli problemi la seconda invece ti ti aiuta diciamo a ridefinire quelli che sono definire quali sono gli step necessari per rimettere in piedi un servizio a seguito ad esempio di un di un disastro o qualsiasi cosa una distruzione un data center un terremoto un alluvione o anche banalmente un ransomware che ti cifra tutto e ti cifra anche i backup che a quel punto di veste potrebbe essere un problema e un disastro. Un'altra terza ISO di cui vorrei parlare è la ISO 20.000 riguarda più la parte di gestione dei servizi quindi più dal punto di vista del del management della governance se vogliamo un pochino una parola che dopo approfondiremo più avanti. Qui si si parla prevalentemente di erogazioni di servizi quindi di processi di incident management, change management, problem management quindi anche di service level agreement tutti quelli che sono gli accordi contrattuali che vanno fatti con con i fornitori ai livelli di servizio che servono quindi per soddisfare sia l'utente che il fornitore. Ultima eh norma di cui vorrei parlare non tanto perché meno importante ma semplicemente perché è una linea guida quindi ne ho accennato ho accennato qualcosa prima Paola è la ISO eh trentunomila questa differenza delle prime tre non è certificabile perché è una linea guida ma ci dà degli ottimi spunti per effettuare una valutazione dei rischi valutazione dei rischi che ad oggi è fondamentale per qualsiasi azienda per capire quali decisioni intraprendere eh per il futuro sia dal punto di vista solo dell'IT ma anche dal punto di vista del business stesso perché si può essere un una software house o un'azienda che produce prodotti senza glutine ma alla fine il business deve andare avanti e quindi la valutazione del rischio sia in un caso che nell'altro deve essere assolutamente fatta. L'applicazione o il raggiungimento di una certificazione ISO in materia di sicurezza informatica è ovviamente sicuramente avvantaggiata e facilitata se si riesce ad applicare all'interno della propria azienda ehm una diciamo una buona IT governance. Cosa si intende per per IT governance? Ma proprio banalmente una gestione dell'IT eh molto eh sinergica all'interno di tutta l'azienda quindi allineamento strategico dell'IT con il business eh fare in modo che l'IT eroghi un valore che non sia soltanto una voce di costo all'interno dei bilanci aziendali eh effettuare misurazione del rischio come dicevo prima che è fondamentale per eh riuscire a prendere delle decisioni corrette gestire in modo ottimale le risorse sia economiche che umane e ehm soprattutto misurare poi le performance questo è fondamentale ehm anche per poi riportare al top management a che punto si è rispetto non so ad una certificazione più altro che piuttosto che a qualcos'altro. Per riuscire a instaurare ovviamente una buona IT governance eh è inutile diciamo reinventare nuovamente la ruota eh esistono già dei framework internazionali che ci aiutano ad instaurare una buona IT governance. Sicuramente il primo tra tutti direi è forse il più conosciuto è il il COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. una sono una serie di strumenti che ci consentono eh banalmente di pianificare eh acquisire e sviluppare eh e monitorare tutti quelli che sono i servizi erogati dall'IT quindi ci dà la possibilità di creare dei dei KPI, dei controlli sulla base dei quali ehm valutare e vedere eh diciamo lo stato e la di maturità del nostro eh del nostro sistema praticamente di gestione dell'IT. Un altro framework molto importante e direi forse anche questo molto conosciuto è l'IT. Eh il primo diciamo il COBIT è più americano, l'IT è un pochino più inglese. Ehm è l'Information Technology Infrastructure Library. Questo framework è molto utile eh soprattutto nelle aziende che eh erogano servizi, servizi T o anche servizi di qualsiasi tipo perché ehm consente di gestire ehm tutta la parte come dicevo prima di incident, di change, di problem ehm e quindi si si riaggancia a quella che è la certificazione ISO 20.000 di cui vi ho vi ho accennato prima. Ci sono poi altri framework diciamo più specifici eh per per i vari settori ad esempio il CMMI che è il Capability Maturity Model Integration. Questo è utilizzato prevalentemente per le aziende che sviluppano software. Qui eh si parla proprio di di maturità del 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 software stesso quindi cicli di maturità del software eh poi un altro città per citare un altro c'è il PMBOK che viene utilizzato eh principalmente per la parte di project management e per ultimo eh citerei il TOGAF eh di Open Group Architecture Framework. Questo è eh estremamente importante direi ehm soprattutto negli ultimi anni sta riacquistando ehm molto valore perché parla proprio di IT Enterprise Architecture quindi proprio di mh come strutturare tutta l'architettura dell'impresa sia dal punto di vista proprio delle tecnologie vere e proprie ma anche dal punto di vista di processi quindi crea questa correlazione tra la tecnologia e i processi e e consente quindi di capire come all'interno dell'azienda tutto viene eh interconnesso tra tra di loro e eh sempre in maniera più sinergica ecco. Ok dopo il diciamo questo aspetto relativo al framework eh si passa a qualcosa di un pochino meno volontario perché quello che ho detto fino adesso sono tutto quante norme e framework volontari quindi se qualcuno vuole appoggiarsi e utilizzarli perché pensa che siano utili lo fa altrimenti non è assolutamente obbligato eh ad un quadro normativo invece un pochino più più stringente ehm in Europa abbiamo due direttive eh diciamo principali una è la NIS e l'altra è il GDPR molto probabilmente il GDPR lo conoscete già in molti eh NIS è sicuramente un po' meno conosciuto se non proprio ehm agli addetti dei dei lavori allora la direttiva NIS entrambe sia la NIS che il GDPR sono sono diciamo nate nel duemilasedici poi ehm recepite in in Italia eh nel duemiladiciotto una maggio e l'altra giugno quindi sono più o meno dello stesso periodo ehm senza entrare eccessivamente nello specifico del dettaglio della NIS dove NIS sta per network ed information security quello che è stato fatto è stato banalmente identificare in Italia quali sono gli operatori di servizi essenziali sulla base di alcuni di alcuni parametri eh e una volta identificati questi questi operatori essenziali quello che viene richiesto a loro eh è semplicemente ehm che sia una sorta di strategia per la quale vengono fissate in particolare misure di preparazione risposta recupero dei servizi ehm anche definizione di un piano di valutazione dei rischi quindi si parla sempre di rischi si torna sempre sui rischi programmi di formazione come si parlava prima anche con Paola e con Cristiano e eh anche una sorta di eh ricerca e sviluppo in materia proprio di di cyber security allora dal mio punto di vista in in Italia questa normativa è stata diciamo recepita in maniera un pochino blanda perché comunque la la pletra di di operatori di servizi essenziali è comunque molto ristretta si parla in Italia di quattrocentosessantacinque aziende quindi sono davvero molto poche eh e prevalentemente sono settore governativo l'interno la difesa eh l'aerospazio lo spazio quindi proprio settori l'energia o il gas cioè settori veramente strategici l'aspetto positivo ehm perché comunque in Europa si parte poi dopo le cose si migliorano nel tempo è che ehm la Commissione Europea ha già presentato una proposta di revisione sostanziale quindi si passerà molto probabilmente alla NIS 2 ehm non è cambiato molto a livello di di contenuti quello che cambierà è sicuramente il il numero di operatori essenziali che saranno considerati eh all'interno di questa normativa sicuramente c'è l'alimentare questo anche a seguito di quello che è successo con la con la pandemia del covid eh ha dato una spinta ulteriore per questa cosa qua alcuni settori industriali eh e così via vedremo poi sicuramente penso nell'arco di sei massimo un anno sei mesi massimo un anno eh qualche informazione in più sicuramente in merito l'altra eh direttiva di cui vi volevo parlare oggi è sicuramente il GDPR quindi il General Data Protection Regulation europeo in questo caso io parlerei a meno in Italia di riconferma dei requisiti di sicurezza perché per chi ha un po' di familiarità con con l'argomento e anche un po' di memoria storica eh noi in Italia nel 2003 avevamo già la la 196 la legge 196 sulla sulla privacy ehm e legata alla 196 2003 della privacy c'era ovviamente quel bellissimo documento che si chiamava documento programmatico sulla sicurezza ovvero la legato B della 196 che bisogna ogni anno mantenere e tenerlo aggiornato fino a mi sembra 2012 o 2013 poi dopodiché non è stato più richiesto quindi diciamo per noi in Italia almeno il GDPR non è stato quasi nulla di nuovo all'orizzonte infatti quello che se mettiamo un attimo a confronto quello che è l'articolo 32 del GDPR con quello che è l'allegato B della 196 vediamo che in entrambi si parla sempre di cifratura dei dati personali ovvero criptografia per nascondere i dati oppure nel GDPR si parla anche di pseudo anonimizzazione quindi la possibilità di 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 ricostruire il dato eh solo ed esclusivamente eh attraverso vari passaggi quindi si trattano si tratta altro che di spacchettare l'informazione e renderla più difficile da eh da da rimettere insieme magari su supporti diversi quindi per ricostruirlo sarebbe necessario avere più cose ehm un altro aspetto di cui si parlava sia nel GDPR che nel nel 196 è sicuramente la capacità di assicurare la CIA dove CIA non è la Central Intelligence Agency americana ma sta per ehm confidentiality integrity availability che in italiano sarebbero confidenzialità integrità e disponibilità del dato quindi qui si parla proprio di resilienza quindi la capacità di essere in grado di avere questo dato sempre disponibile a chi serve quindi della confidenzialità e sempre integro nella sua forma che non sia alterato altro aspetto molto importante di cui si parlava in realtà in entrambe è la capacità di ripristinare la la disponibilità di accesso ai dati quindi la parte di disaster recovery quindi reagire in modo efficace e tempestivo ad eventuali criticità possono essere incidenti fisici tecnici qualsiasi cosa perdita di dato anche la perdita di un laptop di un amministratore delegato qualsiasi cosa dove all'interno del quale ci sono dei dati molto molto importanti e così via ultimo ma non ultimo la cosa più importante perché una volta che si mette in piedi tutto è fondamentale fare il testing dei piani quindi provare tutto quello che si è implementato perché solo se si prova e se funziona siamo sicuri che effettivamente va come dovrebbe quindi diciamo entriamo un po' nel nel dettaglio e vediamo la diciamo il punto di unione tra la sicurezza informatica e le clausole contrattuali di cui io oggi volevo parlare il quale di tutto possiamo diciamo metterlo all'interno di quello che io chiamo amichevolmente il considerando 81 del del GDPR che ve lo cito in maniera molto ve lo leggo perché è carino il titolare è responsabile del trattamento dei dati personali dovranno predisporre ad attuare delle misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio benissimo cosa vuol dire questo significa implicitamente che il titolare in caso di affidamento delle attività a terzi deve comunque ricorrere unicamente a soggetti che hanno che riescono a dare delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento stesso ok quindi questo cosa vuol dire che ad esempio al completamento del trattamento al completamento del trattamento da parte del responsabile il titolare potrebbe richiedere al responsabile di restituire o cancellare i dati ok salvo ovviamente tutti quelli che sono i dati che che vengono in realtà che hanno diverse prescrizioni come dati fiscali obblighi legali queste cose qua quelli vanno ovviamente tenuti ma tutto il resto può essere richiesto e dovrebbe essere cancellato da parte del responsabile ora cioè qual è l'unico strumento da parte del titolare per eseguire un'attività di di revisione ispettiva di questo tipo nei confronti di di qualcun altro beh sicuramente l'unico modo è l'audit quindi una valutazione obiettiva finalizzata a stabilire in quale misura i criteri che sono stati prefissati sono stati soddisfatti o meno ok adesso mi immagino già in tanti che stanno pensando eh ma come faccio io fare audit ad aziende come potrebbero essere microsoft amazon o google perché ovviamente non è semplice c'è la difficoltà di applicazione di uno schema di audit classico non è proprio banale se soggetto terzo a queste dimensioni vi do ragione però c'è anche da dire che queste aziende molto spesso erano servizi software as a service o infrastructure as a service dove l'ownership del servizio comunque rimane in carico al titolare quindi a meno di di attività faradolente da parte di uno di questi tre o quattro che vi ho citato di copie di backup nascoste da qualche parte se io decido di cancellare una cosa tecnicamente dovrei fidarmi che loro stessi l'abbiano cancellata ora vorrei concludere questo questa questa mia presentazione con un un piccolo diciamo con un piccolo esempio l'obiettivo è quello di dichiarirvi alcuni cioè tutti gli aspetti tecnici che abbiamo e teorici che abbiamo appena visto calandolo eh all'interno di un di un argomento che penso sia ormai eh noto a tutti che è l'IoT IoT vuol dire vuol dire internet of things quindi l'internet delle cose per come la vedo io in realtà IoT vuol dire internet of threats cioè l'internet delle minacce ad oggi infatti sta diventando sempre più pervasivo in tutte le realtà e non tutte purtroppo eh sono consapevoli dei rischi eh che sono collegati e interconnessi con l'IoT infatti cosa succede adesso ormai tutti immagino abbiate o molti insomma hanno una videocamera una piccola videocamera wireless o cablata lo stesso in casa per più svariati motivi può essere può essere ad esempio controllare il cane come nel mio caso un gatto o anche magari un bimbo nella culla eh da parte di un genitore che si trova in un'altra stanza ecco cosa succede questo questo dispositivo è sicuramente ehm cioè stato progettato da parte di in qualche paese avanzato del mondo dove ce la esistono ci sono i programmi per riuscire a progettarlo fatto questo quello che succede è che di solito viene assemblato realizzato in qualche altro paese dove la mano d'opera di solito costa relativamente poco con un software sia di back end che di front end che di solito come dico io è sviluppato non tanto di 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 qualità ma direi più di quantità questo software poi viene distribuito sugli vari smartphone e molto probabilmente viene fatta anche della della del supporto post vendito da parte di di qualche altra azienda tutto questo ovviamente a diciannove euro e novantanove da uno di quei vendor che vi ho che vi ho citato prima sicuramente con security by design e by default non assicurata ok quindi pensateci ma oggi veramente abbiamo IoT dappertutto abbiamo le lavatrici le lavastoviglie che ci mandano i messaggi sui sui cellulari dicendo che gli manca il brillantante o che gli manca la morbidente o che ha bisogno di sale la lavastoviglie per esempio o le macchine che si guidano sempre di più da sole i rischi connessi a questi oggetti IoT sono enormi e tutta la filiera mal controllata può generare ovviamente dei serissimi problemi è importante quindi andare a verificare che le aziende fornitrici siano certificate così come tutta la loro catena di subfornitori ma soprattutto quando stipulate dei contratti con un provider o con un fornitore cercate sempre come detto di introdurre qualche clausola di audit come ad esempio questa che vi che vi lascio qui in questa slide è importantissimo andate a trovarli i vostri fornitori quando è possibile per verificare che quello che c'è scritto sui pezzi di carta effettivamente sia cioè rispecchi quello che loro fanno e quello che è per loro lo stato dell'arte cioè ricordatevi sempre che se succede un data breach la faccia ce la mettete ovviamente sempre voi anche se siete fortunati avete un risarcimento economico qualsiasi cosa per un eventuale danno da parte del fornitore il breach porterà inettabilmente a un danno d'immagine del titolare e quindi a una conseguente sfiducia da parte del del dei clienti nell'affidarli ulteriori dati e servizi ecco questo è quanto io con questo vi ringrazio l'ultimo l'ultimo spunto che vorrei dire che con tutto questo proliferare di leggi ovviamente come come visto è andato di pari passo con quella che è la tecnologia stanno sempre sempre di più progredendo in avanti e niente ripasso la parola a a petra che che ci chiarirà il diciamo tutto come tutto questo possa inserirsi nel nel panorama della sostenibilità informatica a te petra